Un progetto basato sui giovani e su elementi locali di categoria. Il Sulmona Calcio porta avanti questo discorso con la convinzione che la crescita passa attraverso le leve del futuro. Il presidente Pier Giorgio Schiavo. Il progetto Sulmona Calcio continua. Stiamo creando questo grosso gruppo di ragazzi di Sulmona, quindi molto compatto, per poter dare a questi ragazzi l'opportunità di avere una vetrina regionale. Io sono emozionatissimo di vedere questi ragazzi del territorio, ma soprattutto ragazzi che vengono dal settore giovanile dell'Olimpia Cedes, perché tanto oramai non c'è più Olimpia Cedes e Sulmona, siamo tutti quanti Sulmona Calcio. Quindi chiediamo a questi ragazzi il massimo impegno e orgoglio di vestire la maglia bianco-rossa, che è quella della propria città. Secondo me non c'è calcio a livello direttantistico se non si ha un buon settore giovanile e una buona scuola calcio. Ovviamente i giovani non andranno mandati allo sbaraglio perché saranno affiancati da elementi di esperienza. Il tecnico Candido Di Felice è convinto di riuscire a creare il giusto mix per puntare almeno ai play-off. Il nostro più grande investimento economico è stato quello del mister, perché il mister è una persona di grande carisma. In lui abbiamo riposto le nostre più grandi fiducia. Noi stiamo cercando di portare questa squadra almeno a disputare i play-off se non a vincerlo il campionato di promozione. Molto ambizioso con una squadra di ragazzi e per il discorso di calcio mercato vogliamo individuare una o due persone di spessore per reparto per poter far crescere i ragazzi. A proposito di rinforzi, alla corte del tecnico Di Felice arriva un innesto di indubbio valore per la categoria. Si tratta del difensore Massimiliano Di Bacco, classe 93, nella scorsa stagione, prima alla Miternina e poi ai Nerostellati. In carriera ha collezionato 21 presenze in Serie D nella stagione 2012-2013 tra Celano e Sora. Successivamente le esperienze con Pratola, Goriano e Virtus Pratola per poi finire nella scorsa estate alla Miternina ed essere ceduto a dicembre ai Nerostellati. Le sue caratteristiche sono di difensore esterno ma può essere impiegato anche come centrale.